Ciao raga, come state? Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Io purtroppo soffro di questi dolori, di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure, alcuni momenti ne ho sofferto di meno, alcuni momenti ne ho sofferto di più. Non sono mai andato a visitarmi purtroppo perché sai una volta magari pensi che sia, non lo so, colpa di qualcosa che hai mangiato, colpa dello stress, della stanchezza o dell'ansia. Poi ho sempre trascurato questa parte perché ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza pensare di prendere un giorno per me e per la mia salute. Purtroppo questa cosa mi è capitata ieri sera prima del concerto, io ero già pronto, vestito, con le cuffie. Stavo per salire sul palco ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco. Sono tornato in camerino e purtroppo anche con l'aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione eccetera, ma era tutto a posto. Purtroppo nessuno però aveva un farmaco, un medicinale che facesse al caso mio. Anche perché non era solo fitta allo stomaco ma avevo anche tanta nausea. Ho provato a prendere delle cose ma non mi è passato e quindi abbiamo cercato qualcuno che andasse alla farmacia più vicina a prendere qualcosa che mi alleviasse almeno la nausea e un po' di dolore. Ma chiaramente tutto questo ha fatto passare molto tempo e io sarei salito sul palco chiaramente anche col dolore. Il problema è che avevo questa nausea molto forte e non riuscivo a muovermi perché più mi muovevo più avevo i colati. E non sarei riuscito chiaramente a cantare o comunque non era bello salire sul palco per poi magari rischiare di scendere poco dopo a causa di come stava. Anche perché vi avevamo fatto aspettare molto tempo quindi poi salire sul palco per scendere non era davvero il caso. L'organizzazione e il mio team insieme hanno deciso di rimandare il concerto a oggi stesso e questa è una bella notizia perché almeno possiamo fare il concerto il giorno dopo e non recuperarlo tra settimane o mesi. Mi dispiace davvero tantissimo tantissimo per tutte le persone che avevano preso il biglietto e non hanno potuto godersi il concerto ieri sera, per tutte le persone che hanno speso soldi di spostamenti vari. Mi dispiace davvero tanto, mi sento io in colpa per quello che è successo. E che dire, il concerto comunque si farà stasera. Tutte le persone che non potranno venire possono chiedere il rimborso in maniera molto semplice tramite il sito di Friends & Partners o la pagina Instagram. Hanno pubblicato anche una storia con un comunicato e hanno lasciato un numero per le info e potete scrivere a quel numero per il rimborso. Mi dispiace davvero per chi non potrà esserci stasera, ma vi ringrazio comunque per tutti i messaggi d'affetto e tutti i messaggi di preoccupazione che mi avete mandato. So che mi volete bene e io ve ne voglio, non potete capire quanto mi senta triste e quanto stia rimpiangendo tutto ciò, anche perché era l'ultima data del tour, avremo chiuso in bellezza. Però, comunque, nulla è perduto. Ci vediamo questa sera, ci vediamo col doppio dell'energia e chiudiamo in bellezza questo tour estivo che è stato davvero incredibile. Approfitto per ringraziare tutte le persone che sono passate a vedere i concerti, tutte le persone che hanno cantato e si sono divertite con me. Vi ringrazio di cuore davvero, ci vediamo questa sera per l'ultima data del tour estivo. Un bacio a tutti.